Perché gli elettori dovrebbero votare Marco Barzanti? Più che Marco Barzanti devono votare il Partito Comunista d'Italia, perché in questo paese di sinistre strane, annaquate ce ne sono state tante, oggi c'è bisogno di una sinistra nuova che solo il Partito Comunista può rappresentarla. Il 5 giugno votate Partito Comunista d'Italia.